Abbiamo un problema molto serio. Ciao! Benvenuti in un nuovo video! Benvenuti in casa di Marlou! Marlou! Marta e Lu! Perché? No! Non ce la farà mai! Non ce la farà mai! Abbiamo un problema! Abbiamo un problema molto serio! Sì, questo è vero, molto molto serio! Che nel 2023 è gravissimo! Cioè, praticamente René ci ha mangiato la fibra, guardate! No, no, ma proprio sgranocchiata alla grande, guardate com'è conciata! Mamma mia! Sì, sì, ce l'ha proprio sgranocchiata alla grande! Però abbiamo trovato una soluzione a questo! Dov'è René, anzi? Troviamolo! Alla ricerca di René, vai! René? Se ne va sempre in giro! È vero, dov'è? E infatti dov'è, secondo te? Ah, eccolo qua, il suo posto preferito! Qua dietro! E noi, guardate, abbiamo chiuso! Perché qua aveva fatto il danno! Sì, perché qua sotto, proprio lì, c'è il cavo della fibrotica che ora ce l'hanno sostituito! E lui si metteva qui a dormire! E a sgranocchiare quel cavo! E adesso glielo chiudo di nuovo! Ecco! Dov'è ridotto? È andato lì! Perché l'abbiamo disturbato! Ah, aiuto! Ah, stava facendo proprio la nano, l'abbiamo disturbato ora! L'abbiamo disturbato! René? Vieni? Ci hai fatto un bel danno, lo sai? C'è mangiato la fibra ottica! René, dai, vieni, la pappa, su! Vieni! Andiamo, dai! Dai, dai, vieni, che per la pappa questa è alta! Piccolino, piccolino, ma è una peste, vi giuro! Sì, andiamo lì, ciao! Eravamo seduti qua sul divano, ad una certa sparisce internet! Andiamo a vedere il modem! Lampeggiava rosso! Oh, raga, ma una cosa! Ma come si passano le serate senza Netflix? Io e lui abbiamo giocato a scala 40! Ma vediamo che cosa è successo quel giorno, perché i tecnici si sono inteneriti quando hanno visto René! Sì, noi siamo stati super sinceri! È vero! E' vero! Ecco qua! Ah, è lui il combina tagli! È lui! Ma cosa, come fai a combinare un danno così, che sei grosso come un urlaccio, sembri? Ma cosa, ma cosa fai a combinare questo? È bagnato perché gli ha fatto il bagnato, eh! È ruoto, come muovo, ripeto! È ruoto forte! Ma dove è giusto? Ma poi è piccolino? Sì, ha detto! Ma cosa combina? Ma cosa combina? Adesso te la cambiamo la preparazione? La cambiamo e dopo se continuo a trovare... Bisogna trovare una protezione, eh sì! No, dopo chiudo tutto! Devi chiudere lì sotto! Io chiuderò qua perché... Ma non riesce che mettiamo sul modem e passa di... Non ha trovato... Guarda, ti stanno dando anche il cavo da mangiare! Non lo guardiate, no? Ma perché cosa devi fare? Devi far così ancora... Ah, già, è vero! C'è il gusto! Eh, sì, c'ha pure da lamentarsi! Ma basta, potete anche... Me ne hanno dato uno di riserva in caso di pochi danni! E adesso, inutile che te ne va in giro! Hai capito? Che segui Luca come se fosse veramente la tua ombra! È vero! E non sono! Ci hanno lasciato il cavo mangiucchiato da René! Madonna! E in più hanno detto, vabbè, siccome Cuccio lo potrebbe ricapitare, ve ne lasciamo un'altra! Eh, ma grazie! Così, in caso succeda di nuovo, ma non ci state più a chiamare, ma ve lo sostituite direttamente, insomma! Bello, lo stai usando bene, eh, quello lì! C'è la fibra dentro, c'è vetro! È vero che c'è vetro! È vero che c'è vetro! Ma guarda te, ma come ha fatto! No, infatti doveva essere una tranquilla giornata! E invece... E invece, anche perché è la prima volta, neanche il coniglio quando l'avevo preso, che lo teneva a casa dei miei genitori, mi mangiava i cavi in giro! È stata la prima volta che mi è successa una cosa del genere! Queen, tu una cosa del genere non l'hai mai fatta, amore! René è scappato di nuovo perché è un cagnolino molto solitario! Ma loro non sanno che durante la nostra permanenza in Calabria, dove ho portato Lu, Amelie si è innamorata del piccolo Pepito! Hai visto che l'ha ritroverata qui? Vedi? Anche con lui! Ho fatto di bacini, mi sto bacendo! Anche con lui, anche con lui! Ciao! Pacco di bacini! Bene raga, questo video si chiude qui, ci vediamo al prossimo video, speriamo non al prossimo danno! Mi raccomando, mettete un cuoricino, commentate e fateci sapere tutti i danni che i vostri cagnolini hanno fatto a casa vostra, così almeno non ci sentiamo soli! Mi raccomando, ci vediamo sempre su questo canale, nei prossimi giorni e... Ciao! Buono il corno, eh!